ciao lettori elettrici di mamma style e benvenuti in un nuovo video è arrivato il momento sotto tanti aspetti di metterci nella nostra camera da letto e fare il cambio di stagione ma ovviamente tra un cambio e dell'altro dovremmo lavare il nostro armadio per eliminare la polvere che magari si è potuto accumulare ed eliminare anche gli ipotetici cattivi odori vediamo insieme i vari passaggi per pulire l'interno dell'armadio ho optato per acqua bicarbonato il limone ma voi potete scegliere anche di pulire il vostro armadio con un detergente adatto dopo aver lavato tutto l'armadio e qui vedrete soltanto dei piccoli passaggi ho asciugato con un nostro finaccio e lasciato per circa 30 minuti le ante aperte in modo da far circolare l'area pulita dopo aver lavato il nostro armadio arriviamo al dunque e dobbiamo profumarlo vediamo insieme un metodo semplicissimo ci serviranno dei gommini che si mettono sotto i piedi delle sedie infatti sono di feltro e noi andremo a spruzzare il nostro profumo preferito e poi grazie all'adesivo noi andremo ad attaccarli nell'armadio spruzzando il profumo sulla parte in feltro lasceremo che questo evapori nell'armadio lasciando così un buon odore di pulito come sempre se ti va lascia un like iscriviti al nostro canale e per tantissime altre curiosità visita il nostro sito www.mamastyle.it iscriviti al nostro canale